Prima ero nel server dei misteri quando ad un certo punto ho sentito questo suono Ma veniva da lì Allora effettivamente sembra ci siano cose molto strane qua Tante, tanto ketchup, c'è tanto ketchup, è solo ketchup C'è un buco in qua, non andare a 913, ma c'è praticamente il coso è qua, è qua Devo scavare sotto immagino Eh, esatto, dovevo scavare sotto, ok perfetto Vediamo un attimo cosa si nasconde qua sotto C'è un segreto effettivamente C'è una porta, un'altra porta Allora questa è una stanza con del pavimento verde ed effettivamente delle rose di Wither tipo so sarebbero Sfortunati sono coloro che cercano il male come fosse un nutrimento In questa stanza il male è ovunque Aia ho preso danno ma porca miseria Bisogna stare attenti alle rose perché fanno male Effettivamente queste rose sarebbero il male tecnicamente Perché derivano dal Wither stesso che è il male Vabbè comunque è interessante però No, 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 non puoi dirmi questo Ragazzi posso scavare guardate ma non funziona comunque Cioè è stranissimo e invece qua non posso nemmeno scavare Boh vabbè non ho Ah ok qua praticamente c'è un ascensore quindi si deve andare avanti È l'unica cosa che possiamo fare quindi andiamo Ho paura di guardare ho paura Oh no è tutto buio porca miseria perché deve essere sempre così Ovviamente qua non posso scavare figuriamoci sono comunque in adventure non posso scavare Oddio raga queste cose sono le cose più inquietanti che possono esistere E io ho paura che qua mi ritrovo di nuovo una cosa strana Ok non voglio Oddio raga è dietro e la cosa No C'è talking tom raga E ha pure un sacco di vita e io devo sconfiggerlo per poter uscire fuori Ma è praticamente fortissimo Mi sta cercando di uccidere Però effettivamente io ho un'armatura molto potente quindi forse ce la posso fare Ok beh oddio insomma lui da bei pugni eh Però dai credo di potercela fare assolutamente Muori Brutto Raga che brutto che madonna santa Io spero adesso appena vado avanti Ok questo qua respawna quindi devo muovermi Prima che respawni immediatamente No 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 raga ho paura che respawni qua davanti Ecco qua 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 scendi Sali ok Ok praticamente qua è anche esploso un creeper suppongo Bene devo dire che non voglio mai più vedere un segreto di questo mondo Ma purtroppo credo ce ne saranno molti se andiamo ad esplorare questo mondo Ci saranno molti segreti quindi scrivetemi se volete vederne altri nei commenti Assolutamente E ci vediamo nei prossimi video